Il tema della vigilanza che è stato richiamato nel Vangelo di ieri assume oggi un significato ancora più forte associandolo al termine di responsabilità. Le vergini sono chiamate a portare quelle lampade ad avere la cura di procurarsi l'olio. Quella fiamma non deve mai spegnersi. Nella nostra vita di fede carissimi non possiamo permetterci di far spegnere quella fiamma che alimenta la nostra relazione con Dio. Dobbiamo cioè sempre tutti i giorni aggiungere quell'olio. Provando a dare un'interpretazione a quell'olio e a cosa può essere associato nella nostra vita, possiamo pensare a tutti quei momenti in cui agiamo da veri cristiani. Non sono semplici azioni che compiamo, ma sono caratteristiche che ci aiutano a vivere la nostra relazione con Dio. Può capitare che come le vergini stolte possiamo rimanere senza olio e quindi la fiamma non si accende. Bene, in quei momenti in cui sentiamo la distanza e la fatica dell'incontro con Dio ci chiede di non gettare tutto via, ma di rimanere ancorati a Lui, perché quella fiamma possa riprendere e continuare a fare luce. Carissimi, nella nostra vita abbiamo bisogno di sentirci sempre come le vergini salge che portano con sé l'olio per dare luce e vita al rapporto con Dio. Buona e santa giornata a tutti.